Il mio prestigio è Alien 1600 metri 1, 2, 7 mio Fabio Mollo 2, 2, 2, 1, 6, Alessandro Contadoro 3, 3, 7, 3, 1, 4, 3, 12, 12, San Toro 5, Tamaroc, Michelac, 6, 10, Marcos Morgan, super favorito, 2, 1, 6, carbonат e 2, 3, 6, 5, 6, 7, www, 3, 2, 3, 3, 1, całe 320, Rashid, 3, 2, 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 12, covering up the Jazz 600 metri 2, Serve-KI, turn into bardziej clear and louder. numero 4, top testuale, squalificato, il lancio con thank you che continua il comando, in seconda posizione 3-7, in terza tamarok in coda tuo, così all'uscita dalla piegata con thank you in vantaggio, quarta iniziale in 29-7, prova guardia thank you, in seconda posizione 3-7, in terza tamarok, mentre sta sbagliando tuo, thank you in vantaggio, numero 1, tuo squalificato, 46 metti, la squalifica anche per tuo, restano in 3 in fila indiana, thank you, tamarok, 3-7, tamarok nell'ordine, sono finire della piegata, thank you, sempre in vantaggio, valetto di metà corso, passato in 1-0-2-7, tra l'uno, 33 letti, il secondo quarto, thank you, continua avanti a 3-7, in terza posizione, tamarok, thank you in vantaggio, così il coperamento del giro in 18-1, con thank you che si avvanta, in seconda posizione, passa al tamarok, thank you, tamarok, 3-7 dell'ordine, continua in vantaggio, thank you, che arriva ai 1-2 in 1-32-2, 29-6, la terza frazione, thank you, tamarok, 3-7, decisamente molto intervallati alla rinu, completamente usa la forma, ingresso addirittura, thank you, arriva ai 200 finali, 1-46-8, thank you, avanti a tamarok, thank you, tamarok, quindi sono tra 7, in chiara evidenza, thank you, faccio a concludere, avanti a tamarok, mentre per la terza, l'herbe non si mette da essere ingannati, perché tra 7 in terza posizione, salvo ovviamente, il raffronto, con il tempo rispetto al vincitore, thank you, 29-5, quarto conclusivo, 2-0-1-7, il tempo passale, per la media chilometra, di 1-16.